Buongiorno a tutti, io vi presento il primo relatore di oggi che è il professor Ugo Volli, professore comunario all'Università di Torino dove ha anche fondato e diretto il CIRCE e anche il nostro corso di laurea magistrale, è stato anche il coordinatore del programma dottorale in semiotica e media, ha insegnato in numerose università sia in Italia che all'estero, dall'Università di Bologna, ULM, Università di Haifa, New York University, ha anche pubblicato molti libri e moltissimi articoli, dedicati alla semiotica della moda, della pubblicità, alla filosofia della comunicazione, solo per citare alcuni esempi, tra i libri che ha pubblicato, ricordo il celeberrimo per noi manuale di semiotica pubblicato dalla terza, e poi una serie di testi che toccano tematiche legate alla sfera del sacro e più in particolare che toccano l'ambito della semiotica del testo religioso, ricordo Fascino del 1997, Domande alla Torah del 2012 e il resto è Interpretazione del 2019. Oggi ci proporrà un intervento dedicato alla strategia oggettivante della cultura ebraica e la sua eccezione. In pratica l'idea della sessione di oggi è dimostrare che nonostante la nostra sia una cultura dove si dice tanto io e si scrive tanto di io in prima persona, in realtà, e quindi potremmo essere portati a pensare che l'autobiografia è una specie di genere trasversale un po' a tutte le culture, in realtà non è così, quindi il genere autobiografico risulta abbastanza estraneo e incompatibile rispetto ad altri generi e ad altre tradizioni culturali. Oggi avremo due esempi di questa cosa di cui ci parleranno i due ospiti di oggi, quindi cominciamo con il professor Ugo Voli che ringrazio molto di essere qui e a cui cedo subito la parola. Grazie mille, grazie per l'invito, sono contento di tornare virtualmente a Torino, che continua a essere il mio dipartimento, la mia università, il mio corso di laurea. Ringrazio Jenny, la professoressa Jenny Ponzo e tutti quelli che hanno organizzato. Il mio intervento è diviso in tre parti, c'è una parte introduttiva che riguarda un tentativo di analisi semiotica iniziale del genere autobiografia spirituale, un discorso sul fatto, come accennava la professoressa Ponzo, che la cultura braica nella sua grande maggioranza ha tenuto a distanza questo genere e questo tipo di spiritualità che è molto significativo e l'ha sostituito con altre cose che vedremo e nella terza parte cercherò di arrivare a quella che secondo me è l'eccezione più rilevante per certi versi rispetto a questa estraneità che è il libro dei salmi di Davide, che di solito non viene letto così, ma che io vi proporrò di leggere almeno in parte così. Dunque cerchiamo di precisare innanzitutto questa nozione di autobiografia spirituale, arriviamoci in maniera, diciamo, secondo una specie di zoom, questa è una strategia di analisi e incominciamo col dire che ovviamente la biografia è una narrazione di una vita, però che tipo di narrazione è dal punto di vista semiotico, propriamente semiotico, è una cosa un po' strana rispetto ad altri tipi di storie, è una storia in cui non c'è di solito un oggetto di valore che motiva la storia, un oggetto di valore esterno, perché poi, diciamo, le biografie finiscono di solito con un periodo di ricadenza e di sconfitta, l'oggetto di valore è interno alla vita stessa dell'eroe e in qualche modo la sua realizzazione, che però viene distribuita lungo la narrazione. Questo comporta un'articolazione in generale del genere biografico un po' diversa dal punto di vista proprio semiotico, narratologico, da come funzionano le narrazioni normali. Inoltre la biografia ha di solito focalizzazione interna, cosa vuol dire questo? E' genet, vuol dire che lo sguardo del narratore in qualche modo si colloca vicino allo sguardo dell'eroe. Spesso questa cosa avviene usando un dispositivo che è caratteristico della narrativa a partire dalla fine dell'Ottocento, che è quella del discorso libero e indiretto, in cui magari parlando in terza persona si interpreta quello che avrebbe visto, sentito, pensato l'oggetto della narrazione, quindi il soggetto della storia, senza magari attribuirlo direttamente. Si dice, beh, certamente era una brutta giornata, fuori pioveva, eccetera, eccetera, prende il punto di vista del narratore, sentì un po' freddo, eccetera, eccetera, in qualche modo gli venne in mente che è eccetera, eccetera, eccetera. E questo in qualche modo trasgredisce nel frontiere fra l'enunciatore della narrazione, il narratore e il soggetto della storia. Naturalmente una biografia può essere totale o parziale, in questo caso è iniziata di capire come è l'italiato, come si definiscono gli oggetti di valore, però insomma questa è tutta una parte da approfondire che non è stata tanto studiata da quanto ne so io. Nell'autobiografia il soggetto dell'enunciazione, cioè colui che è il narratore, che è pure artificiale, come sappiamo, coincide con il soggetto dell'enunciato, qui c'è un errore grave, che corrego subito, dell'enunciato, cioè con l'eroe, diciamo, il soggetto, e dunque essa è omodiegetica, nel senso che il narratore è interno al personaggio e la focalizzazione è per l'appunto interna, cioè la focalizzazione è vicina, lo sguardo in qualche modo coincide più possibile con il personaggio. Di solito qui ne segue l'uso della prima persona, ma non sempre è così. Ho messo qui vicino il racconto del Pellegrino, che è l'autobiografia spirituale di Sant'Ignazio di Loyola, che invece non è in prima persona. Qui apro un tema che poi riprenderò in seguito, che è molto importante secondo me. A differenza della biografia, l'autobiografia ha un particolare effetto in realtà, è un certo prospettivismo. Se io vi racconto come era il mio liceo, chi lo sa meglio di me, fra i miei ascoltatori, lettori? Magari nessuno di voi certamente era a Trieste negli anni Sessanta, quando ho fatto il liceo, io vi posso raccontare delle cose che intanto suscitano la vostra fiducia e in secondo luogo introiettano nel quadro il mio punto di vista. Questi sono effetti semiotici molto importanti che riprenderemo in seguito. Naturalmente ci sono autobiografie letterarie, parziali o totali, spesso in prima persona, come la Recherche, il nome della rosa che è attribuito ad Azzo, le quali sfruttano questo effetto prospettico e in qualche modo la credibilità dell'autobiografia per produrre effetti di tipo narrativo. Ci sono poi molti casi in cui in parte siamo nell'autobiografia, in parte nella biografia, cioè esistono un genere di romanzi storici autobiografici graduati dall'autobiografia vera al prodotto puramente finzionale che anche questi andrebbero esplorati, i cui effetti semiotici andrebbero esplorati. Quello che mi interessa non è tanto parlare di queste pseudo-autobiografie, mi interessa il fatto che le autobiografie vere in qualche modo risentono di questo genere letterale, cioè spesso in qualche modo, anche se sono personali e sincere, tutto quello che volete, tendono a riprodurre degli elementi narrativi che spesso sono elementi di una qualche facilità di effetti. Quindi è interessante, secondo me, tener conto, considerando le autobiografie, tener conto di questo effetto di letterarietà o di avvicinamento alla narrativa della biografia. Esiste, mi diceva la professoressa Ponzo che gli studenti lo sanno, esiste un chi ha studiato l'autobiografia, Philippe Lejeune, che ha scritto un libro importante sul patto autobiografico. Lejeune definisce l'autobiografia come il racconto retrospettivo in prosa di un individuo reale fa della propria esistenza, quando mette al centro sulla sua vita individuale, in particolare sulla propria personalità. È una definizione preziosa, perché ovviamente intanto abbiamo un individuo reale che distingue questa cosa dalla definizione finzionale, poi abbiamo questa in prosa che metteremo un po' alla prova alla fine, e poi abbiamo la nozione di vita individuale, che è diversa da altre forme di narrazione, storica, eccetera, eccetera, e poi abbiamo il problema della personalità, che vedremo essere legato in particolare alle autobiografie spirituali. Quindi è una definizione di cui tener conto. Abbiamo in tutte le autobiografie un contratto di lettura un po' speciale, cioè il patto autobiografico, come lo chiamano Lejeune, cioè l'atto secondo il quale l'autore, che è la stessa identità nominale del protagonista e che narra il suo vissuto, si rivolge al lettore direttamente impegnandosi a raccontare solo la verità o quella che cerca di stacciare per tale, e mirando così a costruire un rapporto di completa fiducia. L'aspetto interessante di questa cosa è che c'è un impegno alla verità più forte di quello del narratore di letteratura, ma anche di quello dello storico, perché questa verità è una verità esperita, e come controparte di questo pezzo del patto c'è una richiesta di fiducia completa. Io devo credere a quello che mi dice l'autobiografante, anche se mi sembra un po' strana. E quindi abbiamo da un lato l'introspezione e dall'altro l'esigenza di verità, una mossa verso l'interno e una mossa verso l'esterno, che sono caratteristiche di questo genere. Se noi andiamo a analizzare un pochino questi testi, notiamo che c'è un uso di solito molto particolare sui pronomi, sui shift, sui segni indicali, che si concentra sull'asse io-tu, cioè sull'asse che normalmente è l'asse comunicativo, invece che sull'asse di analitico, scientifico o di affermazione valitativa, che si concentra sul rapporto con una cosa estranea. Quindi abbiamo in generale nella letteratura autobiografica una forma di costruzione che presenta delle analogie e sfrutta delle analogie importanti con la conversazione vera e propria, viva, eccetera, o con qualcosa di abbastanza simile che succede al teatro. Siamo cioè di fronte a una strategia narrativa soggettivante, cioè al tentativo di imporre i contenuti che vengono proposti come testimoniati da un io che si rivolge direttamente a un tu, come quando uno dice Cosa hai fatto ieri? Ieri sono andato al cinema. C'è un io-tu, una determinazione temporale, una testimonianza che in qualche modo congiurano ad assicurare un particolare rapporto con gli eventi che è diverso dal rapporto che io ho quando chiedo a qualcuno qual è la capitale della Francia e lui mi dice Berlino, perché in questo caso lui si può sbagliare, mentre se io dico dove sei stato ieri e dico sono stato al cinema, mentre in realtà ero stato a trovare un'altra persona, non mi sbaglio, tendo piuttosto a mentire, cioè c'è in gioco effetti diversi dal punto di vista semiotico. Questa cosa del tempo presente, della somiglianza alla conversazione, si estende in maniera molto significativa alla temporalità. Nella biografia la temporalità è narrativa e nell'autobiografia lo è anche seppure si dica io. La biografia dice Napoleone in quel giorno andò in battaglia, borodinò eccetera eccetera e usa l'imperfetto e poi fu sconfitto il perfetto eccetera e questo avviene in terza persona e avviene e usa questi tempi che nell'analisi di Vanrich, che è un linguista importante, sono chiamati temporalità narrativa, cioè l'imperfetto, il passato remoto, il trapassato prossimo, era andato, fu andato, dopo che fu andato e i condizionali eccetera. Mentre la temporalità della conversazione presente e del teatro eccetera è chiamata commentativa, è fatta dai tempi presenti, passato prossimo e i futuri. se io chiedo a qualcuno come stai, uso il presente e se lui parla di sé userà sono venuto qui perché dovevo seguire la lezione che di nuovo fa parte di questa temporalità commentativa. Allora c'è una caratteristica dell'autobiografia tecnica per cui l'uso dei pronomi è sull'asse della comunicazione, cioè sull'asse che va e richiama commentativo, mentre l'uso della temporalità è lo stesso dell'uso della narrazione normale e cioè la narratività commentativa. Andiamo avanti sul problema degli effetti che mi sembra assolutamente fondamentale. Il patto autobiografico non riguarda, non crea solo un rapporto fiduciario sulla verità di ciò che è narrato. Al liceo io andavo a prendere il caffè al bar di fronte ma tende a condividere l'oggetto di valore della narrazione, cioè le persone che leggono una mia autobiografia che non ho nessuna intenzione di scrivere ma che potrei scrivere tendono a suturarsi come suol dirsi su di me e quindi tendono essi stessi ad assumere la focalizzazione interna, tendono essi stessi a vedere le cose coi miei occhi perché io esprimo il mio punto di vista reale e metaforico quindi sono prospettico tutto funziona come nella soggettiva cinematografica e tutto funzionando così quello che condivido è anche il mio in qualche modo il mio interesse il mio desiderio il mio obiettivo eccetera eccetera e quindi c'è una forte possibilità di spiegare ma addirittura di contagiare la propria la propria storia e quindi i propri effetti i propri oggetti di lavoro di valore scusate i propri oggetti di valore con il lettore questa cosa porta facilmente a un uso pedagogico dell'autobiografia in cui il lettore vede errori obiettivi passi metodi li vede alla stessa maniera del protagonista e quindi in qualche modo condivide il suo percorso eccetera ma attenzione lo fa partire da una narrazione che è istituita alla fine istituita ex post lo diceva anche Legione nella definizione il punto l'autobiografia è retrospettiva cosa vuol dire retrospettiva vuol dire che l'autore ha raggiunto un punto nella sua vita il punto estremo il punto dell'illuminazione o il punto della realizzazione che pensa da cui pensa di poter raccontare e giudicare la propria vita e quindi la racconta magari suscitando simpatia che ne so per i suoi errori di gioventù ma allo stesso tempo condannandoli e comunque spiegando perché erano degli errori e quindi perché perché poi è riuscito a diventare quello che è è riuscito a diventare Sant'Agostino è riuscito a diventare Napoleone o chi e quindi questo punto di vista della sanzione che viene dal momento della sanzione della storia quello è il fuoco temporale della storia rende particolarmente autorevoli e condivisibili i giudizi che dà l'autore immaginatevi qualcuno dica in un libro autobiografico molto normale era un ragazzino un po' scioperato mi piaceva andare a bere non perdere tempo eccetera eccetera poi lentamente ho capito che questa cosa era un errore e così via questo tipo di narrazione viene fatta esposta a parte di uno che non che non perde più tempo che non va in giro a bere o a giocare e basta e che però in qualche modo è legato a quel se stesso che faceva queste cose e di conseguenza può allo stesso tempo esporlo esporlo con simpatia e giudicarlo questa è una tipica modalità dell'autobiografia che è caratteristica per esempio non so delle confessioni di Sant'Agostino che vedremo che sono particolarmente significative sul piano storico e teorico e quindi presenta un gioco di temporalità e di valori in cui il se stesso viene rifratto in molte volte i suoi obiettivi vengono rifatti molte volte e però c'è un io giudicante che è l'io narrante che prevale quindi abbiamo un'esperienza non solo narrata ma vissuta un punto di vista che è strutturalmente condiviso abbiamo un'autorità che viene costituita dal fatto che la voce che parla è la voce della sanzione abbiamo una complicità che viene istituita attraverso le vicende biografiche abbiamo una lontananza dell'antisoggetto ogni storia è una storia che è agonistica fra un soggetto e un antisoggetto almeno che in qualche modo si battono per ottenere risultati diversi ma nell'autobiografia proprio per il suo carattere prospettico questa cosa è lontana e tutto ciò fa dell'autobiografia un dispositivo particolarmente potente per la condivisione dei lavori dunque un meccanismo ideologico anche quando come succede come vi ho raccontato prima il soggetto narrante il soggetto della sanzione contraddice le scelte che ha fatto il soggetto durante lo stesso soggetto durante la sua fase di competenza e questa cosa dà luogo a forme autobiografiche come la confessione su cui torneremo fa un attimo l'autocritica politica che spesso era stata richiesta dai regimi dai regimi totalitari e quindi una cosa che è usata come dispositivo pedagogico sia nella chiesa sia nei partiti totalitari e perfino questo ha un peso nella giustizia dal punto di vista della figura del pentimento che è molto tipica di questa cosa andiamo avanti rapidamente l'autobiografia può essere puramente esteriore riguardare azioni esperienze realizzazione dell'autore nel mondo appunto cito qui il livello gallico le memoir di Casanova la vita di Cellini o il milione sono cose che questi hanno fatto e che non si giudicano oppure può essere interiore quando racconta più quegli eventi la vita della mente non siamo ancora l'autobiografia spirituale perché quello che cito è un celebre una celebre memoria di difesa di uno psicotico analizzata poi da Freud eccetera molto bella che sono le memorie di un merato di nervi in cui questo presidente di tribunale dice che effettivamente ci sono degli angeli cattivi che li muovono il volto e così via ed è un testo molto impressionante e molto forte se noi parliamo dell'autobiografia interiore abbiamo una focalizzazione più forte di quella interna abbiamo un patto fiduciario più forte perché in linea di principio sulla biografia fisica diciamo delle azioni di qualcuno possiamo avere dei testimoni ma certamente non possiamo averlo sulla vita mentale o spirituale quindi io propongo di chiamare questo tipo di focalizzazione focalizzazione intima e focalizzazione intima fiduciaria perché l'aspetto fiduciario è molto forte quando l'autobiografia interiore riguarda termini come salvezza illuminazione rapporto con il divino eccetera parliamo piuttosto di autobiografia spirituale il prototipo occidentale di questo genere sono le confessioni di Sant'Agostino di Pone che posso darti riprese mille volte in maniera più o meno esplicita per esempio in maniera molto esplicita da Rousseau siamo alla fine del 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 quinto secolo è importante capire come questa cosa come questa questa forma si si realizzi e mi interessa sottolineare la nascita cristiana della autobiografia spirituale perché questa questa cosa corrisponde molto alla forma diciamo al mind frame alla forma di vita del cristianesimo perché naturalmente se io parlo di autobiografia spirituale in qualche modo indago sulla fede e non sulle sulle azioni la fede è privilegiata in questo in questo contesto ma la fede deve essere verificata giustificata eccetera eccetera e questo è il compito spesso di chi possiede questa fede o meglio la conquistata questo è il senso fondamentale del del testo di di sant'agostino la biografia la 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 le confessioni di agostino vengono alla fine di una genealogia molto molto importante che è stata oggetto di una lunga dettagliata e molto ricca indagine che ha coperto gli ultimi anni di vita di lavoro di Michel Foucault del grande filosofo Michel Foucault l'idea di Foucault è che le origini di questa di questa di questa forma vengano nel dal mondo greco in particolare da un concetto che troviamo nel testo nei dialoghi di Platone che è la cura di sé che corrisponde al compito di conoscere se stesso ma lo traduce in un modo di badare di lavorare su di sé per usare un modo di dire che oggi è abbastanza diffuso di badare a quel che uno è questa cosa che è un'innovazione di Socrate o di Platone ma probabilmente già di Socrate scrive Foucault il periodo elenistico imperiale diventa il tema filosofico comune e principale usato dagli epicurei dai cinici dagli stoici eccetera e la cura di sé non è un problema astratto ma un'attività diffusa il vivere filosoficamente voleva dire esercitare la cura di sé e quindi una rete di obblighi e servigi resi alla propria anima all'interno dei quali è principale la narrazione di se stesso con una serie di meccanismi in cui non riesco ad entrare sia nel passato che nel futuro però la cosa fondamentale che viene inventata nel mondo greco a partire diciamo dal periodo ellenistico è l'idea che avere cura di sé vuol dire anche raccontarsi sapersi raccontare questa cosa evolve come Foucault ha indagato ha spiegato in modi in tecniche di autoanalisi molto ben dettagliate che possono essere pubbliche o private all'inizio del mondo cristiano si tratta di confezioni pubbliche poi diventano solo molto molto dopo la confezione che siamo abituati noi formalizzata e intima che si afferma fra il secolo XII e XIII quindi questa è una radice di un percorso al cui centro c'è poi la confessione di Agostino che in qualche modo legano il mondo cristiano a certe radici a certe radici greche vale la pena di leggere rapidamente Foucault la confessione rituale discorsivo in cui il soggetto che parla coincide con il soggetto renunciato ma anche il rituale che dispiega un rapporto di potere perché non si confessa senza la presenza almeno virtuale di un partner che non è semplicemente l'interlocutore ma l'istanza che richiede la confessione l'impone la prezza ed interviene per giudicare punire perdonare consolare il conciliare e quindi quindi c'è questo rituale in qualche modo formalizza un gesto che è un gesto di autoanalisi del proprio passato della propria verità soggettiva per Foucault questa cosa comporta una serie di conseguenze importantissime sul modo in cui funziona la cultura moderna ancora ancora quella attuale su come si costituiscono i rapporti di potere la definizione della sessualità eccetera eccetera e a me serve naturalmente non posso neanche accennare alla ricchezza di questa analisi sono una decina di libri che Foucault ha scritto su queste cose mi interessa sottolineare che la radice di questa cosa è greca per le ragioni che vi dirò fra un attimo che sono queste ho finito la prima parte questo inizio di questi accenni di analisi vado rapidamente alla seconda il caso ebraico è opposto si oppone a questa linea genealogica in primo luogo si oppone all'elenismo si incontra all'elenismo ne è influenzato eccetera ma ha una reazione sia politica sia culturale di opposizione che non siamo in grado di approfondire qui e in particolare gli è estraneo la tematica dell'auto interrogazione e della costruzione del sé nel senso in cui abbiamo visto della cura e della conoscenza del sé come obiettivo filosofico fondamentale naturalmente nel mondo biblico ci sono personaggi che cambiano che mentono che interrogano che si domandano ma la riflessione e questo è il nome che io propongo di dare a tutto questo grande insieme di tecniche riflessione nel senso in cui parliamo di riflessione dello specchio cioè vedersi dal di fuori e interrogarsi su questo altro fuori di noi che incontriamo è molto raro nella cultura ebraica come è raro il sospetto sulle proprie intenzioni che è una mossa caratteristica della confessione e dell'autobiografia spirituale i personaggi della bibbia cambiano mentono si interrogano eccetera ma in genere momento per momento si sentono trasparenti a se stessi e quindi non non ammettono questo tipo di 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 narrativa seconda differenza la nozione di fede non è particolarmente significativa nella tradizione ebraica l'esistenza di di Dio e la sua il suo modo di essere appare evidente appare come un dato in un salmo si dice ho preso un esempio qualunque solo lo sciocco dice in cuor suo che Dio non esiste ma una persona normale lo sa già in generale dove la nozione di fede è assimilata nella tradizione ebraica bisogna distingue ma lo dico molto rapidamente con le altre nozioni che in italiano hanno la stessa radice ma significati diversi e cioè fedeltà e fiducia il problema non è credere a certe idee o a certe proposizioni ma essere fedele a una certa persona in questo caso la persona di Dio e avere fiducia in Lui e questa fedeltà e questa fiducia sono spesso reciproche cioè anche mentre è difficile dire a Dio che ha fede nella sua esistenza ha senso dire che è un come si dice spesso liturgicamente che è un re fedele oppure fedele ai suoi sudditi in qualche modo oppure che nutre fiducia nei nei suoi nei suoi nei suoi eroi quindi in qualche modo la nozione di fede si darebbe solo nel mondo di una religione della fede si dà solo per i per i fedeli per gli umani diciamo che credono anche se ciò che è assurdo mentre nel mondo ebraico è un tema di relazione soprattutto non conta la fede dunque conta sì la fiducia e la fedeltà ma non conta la fede quel che conta è il comportamento questo cioè il fare quel che si deve fare i precetti eccetera spesso è richiesto che le preghiere per esempio siano dette con una con la giusta intenzione c'è un termine tecnico che è cavana per questa cosa ma questa cavana non è non ha a che fare con una dimensione diciamo di sentimento di fede ma con una scelta intellettuale volitiva di fare una preghiera è valida se io voglio fare una preghiera esattamente come per fare un esempio cristiano una spersione d'acqua diventa un battesimo se io decido che quella cosa lì voglio che quella cosa lì sia sia un battesimo questo tipo di intenzione è la cavana se prendiamo i testi notiamo che la bibbia è quasi tutta scritta in terza persona racconta storie in cui l'oggetto di valore non è la vita ma raggiungere fare certe cose eccetera eccetera ci sono focalizzazioni interne sui personaggi principali ma quasi mai una focalizzazione intima sapere cosa pensava Abramo mentre sacrificava Esacco o non lo sacrificava eccetera è un grande è un grande punto di domanda un grande mistero c'è scritto un libro bellissimo Kierkegaard ma nel testo non c'è questa è la cosa fondamentale nel testo questo lungo silenzio dei tre giorni di cammino da dove stava Abramo al monte Moria dove dovrebbe avvenire il sacrificio è silenzio poi abbiamo dei testi in prima persona e però questi testi in prima persona sono discorsi pubblici come i discorsi di Mosè nel Deuteronomio i certi testi dei profeti oppure hanno diciamo valore proverbiale o cognitivo come nel caso dell'Ecclesiaste che in ebraico si chiama Coelet che vuol dire l'oratore è un discorso pubblico e non intimo e anche quando parla di cose intime quindi non abbiamo una delle caratteristiche profetali del discorso dell'autobiografia spirituale la tradizione successiva post biblica in generale alle forme del commento della discussione pubblica del trattato della lettera del risponso della favola o della parabola ma sempre con strategie oggettivanti in cui spesso ancora più che nella nostra cultura il soggetto dell'annunciazione è nascosto o in forma pseudoepigrafica cioè attribuendo dei testi a dei personaggi lontani lo zoar che è un testo del tredicesimo secolo attribuito un certo rabbino del secondo oppure talvolta c'è l'abitudine abbastanza frequente di sostituire il nome dell'autore citandolo con quello del suo libro principale non si cita non si dice che il rabbino Yehuda Arié Lai Balter della seconda metà dell'ottocento ha detto questo si dice che il se fate met ha detto questo come se noi dicessimo non dicessimo Kant ha detto questo ma dicessimo la critica è ragion pura ha detto questo anche se non è una delle cose che stanno nella critica è ragion pura semplicemente citandolo col libro quindi c'è un distacco dentro questo distacco c'è la cosa fondamentale è il commento e c'è un'affermazione molto interessante da questo punto di vista che tira via lo spazio dell'autobiografia intellettuale in un celebre passo tramudico si dice il sapiente il saggio l'intellettuale lo studioso è più grande del profeta è più importante del profeta ha più valore del profeta il sapiente è uno che non parla in prima persona ma parla di cose che ha studiato che ha saputo per altri eccetera quindi c'è una forte tentativo di allontanare questa questa focalizzazione intima vi mostro molto rapidamente perché sono in ritardo due pagine del Talmud con tutti i commenti quello che il lavoro del sapiente è commentare rispetto ai discutere con altri rispetto a una testualità che può essere quella biblica eccetera questa cosa avviene anche nei testi nei testi mistici anche se esiste qualche influenza di tradizione cristiana questo non è non è fondamentale le preghiere sono di solito espresse al plurale anche le grandi le grandi preghiere confessionali confessionali o penitenziali come quelle del giorno dell'espiazione sono al plurale vi mostro un esempio questa è la preghiera più importante che in qualche modo ha relazioni col Padre Nostro perché si chiama Vino Malchenu cioè Nostro Padre Nostro Re però è Nostro come esattamente come Nostro Padre e quello che si dice è ascolta le nostre voci ascolta noi ti dobbiamo dire delle cose questa che vedete adesso è la confessione di colpa dell'ebraismo che è il momento penitenziale più alto del giorno delle ispirazioni e dice noi abbiamo abusato noi abbiamo tradito noi siamo stati crudeli noi abbiamo distrutto noi siamo stati falsi erano i stessi noi abbiamo fatto pentegolezzi abbiamo insultato eccetera noi abbiamo ucciso noi abbiamo mentito sempre il punto fondamentale è il noi dove non conta che tu l'abbia fatto non l'abbia fatto ma conta la corresponsabilità di gruppo anche questa è una cosa che va molto che chiude una delle porte possibili autobiografia spirituale è importante notare che queste cose si trovano anche in qualche modo nel nuovo testamento nella misura in cui sono questo è simile all'ebraismo alla tradizione ebraica da cui proviene molto molto rapidamente perché credo aver finito il mio tempo accenno la seconda alla terza parte vi è un'eccezione a tutta questa cosa e sono i salmi i salmi di solito sono letti come occasione di preghiera sono classificati come penitenziali messianici di pellegrinaggio di lode e così via di fatto però i salmi sono firmati dentro il testo non importa se è vero o no molto probabilmente in parte almeno sono cose pseudepiografiche la metà circa attribuita direttamente a Re Davide altre un'altra ventina a personaggi che li stanno che li stanno attorno altre ad altri personaggi ancora è interessante che questa questa firma in qualche modo delinea un percorso che non è un percorso solo astratto di spiritualità ma anche un percorso di vita si indicano delle circostanze concrete quindi è possibile guardare il libro dei salmi benché sia in poesia come in relazione alla vita di Davide come raccontata in altri libri biblici vi mostro una fra le molte analisi che state fatte da questo punto di vista questa è un'analisi che mette in correlazione alcuni momenti di una storia che generalmente non si conosce tanto nella cultura italiana ma che è molto avventurosa e bella come l'odissea in cui ci sono varie avventure e queste varie avventure corrispondono dei salmi dunque i salmi sono autobiografia parziale anche se inversi non in prosa sono un'autobiografia intima perché i riferimenti sono tutti fatti alla vita della persona alla vita interna e anche un'autobiografia spirituale perché si parla dei rapporti con la divinità è uno strano è uno strano modo di fare autobiografia perché sono testi tutti sfaccettati in cui naturalmente ogni singolo salmo non è legato immediatamente a quell'altra quindi ci sono delle lacune e dei buchi in mezzo e la poesia è strutturata per impressioni singole e quindi abbiamo di nuovo una sfaccettatura e non un discorso in qualche modo abbia l'aria di evolvere non si delinea una maturazione non si delinea un'ascesa spirituale come nel caso autobiografia classica ma in qualche modo si prende il singolo episodio e si parte in qualche modo da un punto di vista esterno eterno posteriore a trarne le sue conclusioni quindi abbiamo come delle epifanie in termini gioisiani in cui la temporalità è diversa da quella dell'autobiografia ritornando a quello che dicevo prima è commentativa e non è narrativa vi mostro ve ne mostro solo un paio prima di chiudere quasi in tempo senza bucare troppo il mio tempo ne ho citate ne ho riportate tre o quattro a un certo punto della sua vita davide si finge pazzo quando è prigioniero di un re di un re filisteo e questo salmo è nel suo testo quello di davide quando si finse pazzo che vedete è il primo verso nel suo testo è attribuito a questo momento e se lo provate a leggere la traduzione è mia e cerca di dimostrare mentre normalmente le traduzioni dei salmi cercano di arrotondare le cose cerca di mostrare gli sfigoli del testo vedete che a partire da questa esperienza davide in qualche modo trae delle conclusioni che sono le conclusioni di tipo spirituale o riferisce di un'esperienza dice benedico l'eterno in ogni tempo sempre la sua lode sulla mia bocca nell'eterno si gloria la mia anima ascoltano gli umili si allegrano celebrate con me l'eterno vedete la temporalità diretta insieme esaltiamo il suo nome mi sono volto all'eterno quando ero nel pericolo e mi ha esaudito mi ha liberato da tutti i miei terrori eccetera eccetera questa è quel salmo 63 che di nuovo è citato come riferito a una circostanza precisa della vita di Davide e Dio tu sei il mio Dio ti cerco all'alba di te all'alba di te assene dell'anima mia a tenere la mia carne in questa terra deserta arida senza acqua come ti ho cercato del santuario così ti benedirò per tutta la vita eccetera eccetera quindi sono dei momenti delle epifanie che in qualche modo delineano nella loro successione un possibile un possibile percorso percorso di vita alla fine l'ultima slide che vi mostro la poesia in qualche modo viene da delle epifanie puntuali che tracciano un certo disegno che forse possiamo considerare un'autobiografia spirituale l'ho chiamata puntinista facendo riferimento al movimento artistico francese dell'ottocento è molto affascinante leggerla in questa maniera avendo del tempo è importante capire che questo tipo di esperienza è più o meno è più o meno unica forse non solo nella cultura ebraica voi trovate ecchi dei salmi per esempio in leopardi li trovate in heinel li trovate in in poeti in tracle eccetera eccetera però diciamo che il modo di fare dell'autobiografia spirituale tradizionale è molto diverso quindi ho semplicemente indicato una possibile eccezione a un'estraneità culturale vi ringrazio e chiudo quasi in orario grazie grazie Ugo grazie Ugo per il bellissimo intervento penso che la parte introduttiva sia stata veramente molto utile molto anche ben fatta schematizzata che sarà sicuramente di grande aiuto per gli studenti e poi interessantissimo anche questo caso dei salmi come autobiografia e l'idea dell'autobiografia puntinista se c'è bisogno delle mie slide non ho difficoltà a lasciarvele grazie volentieri tra l'altro appunto questa cosa dell'autobiografia puntinista un po' come dire risolve un tratto un po' problematico dell'autobiografia tradizionale voglio dire questa specie di finzione perché se è vero quello che dice per esempio Frank Hermode ma come lui tanti altri che noi abbiamo bisogno di un sense of an ending di una fine in fondo l'autobiografia tradizionale fa una finzione nel momento in cui fa finta di essere un racconto finito mentre chiaramente non lo è e sicuramente l'autobiografia puntinista risolve questa contraddizione se vogliamo di un'autobiografia di un'autobiografia di un'autobiografia un'autobiografia di un'autobiografia Grazie.